Di recente il Presidente del Consiglio si è cimentato in una tristissima diretta social e sentite cosa ha detto. Con molta franchezza abbiamo iniziato dal togliere i vitalizi ai politici, perché diceva dobbiamo toglierli anche a quelli di prima. Partiamo da questo, io rappresento una generazione che non ha il vitalizio. È finita l'era dei politici col vitalizio, chiaro? È finita con noi, un'altra delle promesse della Leopolda. È finita l'era dei politici con il vitalizio, così ha detto. Ora, al di là degli ex parlamentari che ancora prendono il vitalizio, dovete sapere in realtà che ancora oggi i deputati e senatori non vanno in pensione come un normale cittadino. Vanno in pensione a 65 anni dopo 5 anni di legislatura e a 60 anni con 2 legislature. Quindi, ricapitolando, gli stessi parlamentari che hanno votato la legge Fornero incassano la pensione a 60 anni con 10 anni di contributi. Questo Renzi non ve l'ha detto ovviamente, ma c'è di più. Se non si fanno tutti i 5 anni di legislatura il vitalizio non scatta. E questo meccanismo rende il vitalizio non solo un privilegio inaccettabile, ma anche un'arma di ricatto. E vi spiego perché. Lo dimostra proprio lo scandalo Trivellopoli. Per approvare l'emendamento incriminato, quello per capirci che ha portato alla dimissione del Ministro dello Sviluppo Economico, il Governo, e nello specifico Maria Elena Boschi, ha inserito quell'emendamento nella legge di stabilità e annunciato la fiducia. Che cosa significa questo in soldoni? Significa che la Boschi ha detto al Parlamento o approvate la legge con dentro l'emendamento che interessa le lobby del petrolio o si va a casa e perdete il vitalizio a 60 anni. Questo è ricatto in Parlamento. La minaccia di applicare la legge Fornero anche ai parlamentari, non sia mai ovviamente, è la ragione per cui i parlamentari della maggioranza non vogliono rischiare di andare a casa e quindi non votano la sfiducia al Governo. Sarebbe allora interessante chiedere a Renzi e sapere come mai la sua maggioranza ha votato contro la proposta del Movimento 5 Stelle di togliere tutti i vitalizi. La verità è che Renzi usa questo privilegio per ottenere fedeltà e fare così tutti gli interessi delle lobby che lo hanno nominato. L'unica cosa da fare è riprendersi la sovranità e possiamo partire dal referendum del 17 aprile. Andiamo a votare e mandiamoli a casa.